«Desidero che vi sia la festa della Divina Misericordia nella prima domenica dopo Pasqua. In quel giorno spanderò un mare di grazie sulle anime che si accosteranno alla fonte della mia misericordia». «In quel giorno, cioè in questo giorno, spanderò un mare di grazie sulle anime che si accosteranno alla fonte della mia misericordia». E la fonte della misericordia, fratelli e sorelle, è il costato di Cristo, è il fianco squarciato di Cristo. Accostiamoci allora con viva fede a questa sorgente per divenire anche noi, ad un tempo, oggetti e soggetti della misericordia infinita di Dio. Alla Vergine delle Grazie e a San Pio da Pietrelcina affidiamo questi propositi, perché la Pasqua del Signore Risorto e la forza dello Spirito Santo che Egli ha inviato sulla Chiesa continuino ad infondere speranza in questi tempi difficili per il genere umano e a favorire in ogni momento per ciascuno di noi opportunità di conversione affinché possiamo vivere da vero popolo riconciliato, guarito e salvato per la vita eterna. Così speriamo e così sia.